Il portoghese Cristiano Ronaldo, fenomeno del calcio mondiale, ha mantenuto nascosto un segreto per 12 lunghi anni. L'identità della madre di suo figlio maggiore, Cristiano Ronaldo Junior. Questo lungo silenzio ha fatto in modo che la stampa diffondesse alcune teorie a riguardo, alcune più contorte di altre, per chiarire tutti i dubbi. Il mistero si è insediato sin dall'inizio. Nella conferenza stampa dove ha annunciato la sua paternità, CR7 aveva detto che la donna preferiva mantenere il suo anonimato. E aveva chiesto ai giornalisti di non indagare. In quel momento i pettegolezzi della stampa avevano iniziato a diffondersi ovunque e il caso era finito in diverse prime pagine. Il portoghese in quel periodo era fidanzato con la modella Irina Sheik, ma era stata scartata l'idea che la madre fosse lei. Quindi chi è stata la donna che ha messo al mondo il piccolo Cristiano Junior? Come abbiamo già detto, Sheik non poteva essere, dato che ha avuto la sua prima figlia nel 2019, quattro anni dopo essersi separata dal calciatore. Altri tabloids sono andati oltre e sostenevano che il piccolo Cristiano era stato il frutto di un'avventura di una notte, in cui il calciatore era stato con una cameriera originaria degli Stati Uniti e con la quale era arrivato ad un accordo economico per farla scomparire dalla sua vita. D'altra parte erano spuntate delle teorie secondo le quali CR7 aveva optato per la maternità sorrogata. In effetti, la testata Sunday Mirror dell'Inghilterra sosteneva che il fenomeno avrebbe pagato circa 10 milioni di dollari ad una studentessa britannica per affittare il suo utero e mantenere il segreto. Se parliamo basandoci sui fatti, non c'è ancora nessuna certezza sull'identità della mamma di Cristiano Junior. Nemmeno il ragazzino lo sa. Quando crescerà, gli dirò la verità perché se la merita, perché è mio figlio, ma non glielo dirò perché la gente vuole che glielo dica, ha detto il giocatore in un documentario sulla sua vita e carriera calcistica. Cristiano Ronaldo Junior è nato negli USA nell'anno 2010 e ha accompagnato suo padre in quasi tutte le sue avventure. Il piccolo è uno degli orgogli di suo padre e nonostante la star del calcio sia molto riservato riguardo alla sua vita privata, vengono sempre immortalati insieme nelle foto. E anche se bisogna ancora aspettare finché il ragazzino raggiunga la maturità e si sappia la verità, tutto indica che con CR7, il più grande cannoniere della storia del calcio, riceva moltissimo amore. E anche se bisogna ancora aspettare finché il ragazzino della storia del calcio, riceva moltissimo amore. E anche se bisogna ancora aspettare finché il ragazzino della storia del calcio, riceva moltissimo amore.